5 Stelle presenta Andrea Liberati. Noi vogliamo liberare l'Umbria, vogliamo liberarla dagli intrecci politico-affaristici, vogliamo liberarla dal regime che dura da 45 anni, da certe co-op che sono la porta aggirevole del PD. Basta, non ne possiamo più. Noi proponiamo dall'altra parte i redditi di cittadinanza regionale a favore dei più deboli, dall'altra parte ancora un rapporto nuovo con le piccole e medie imprese.